Le controparte Filippo Ludovisi e Michela Verdotti dichiarano di non avere più un'unione sentimentale Troppa fatica a mettere le tue mutande sporche nel cestino Usami una riunione di lavoro importantissimo Non me ne frega niente della tua riunione Poiché tutti vogliamo il bene del bambino assegno provvisoriamente per sei mesi la casa a Francesco Ludovisi Adesso in casa andando io Sono io il boss Sì, come se fosse vero Benvenuto nel club dei separati Benvenuto nel club Ti devi spiegare che qui comando io Secondo te una gnocca come tua mamma non ce l'aveva l'amante? Ma come te ne esci? E Lucrezia, ti ripeto, è soltanto un'amica di papà Lei ha davanti una persona pulita Con qualche macchiolina Sabato facciamo una pezza a casa mia Tutto bene, papà? Tutto bene, amore Tutto bene, amore Grazie a tutti